Luca Wackermann al microfono della Gazzetta dello Sport, Luca complimenti, bello vedere un classe 92 fare una grande treballi. La lita stava molto bene, ho provato anche ad attaccare, diciamo che ho fatto un po' quando ero davanti, mi è venuta ancora più voglia di partire, di cercare di staccare gli altri, però avevo tanti campioni come Di Luca, anche Castelli, nel finale purtroppo quando stavo passando Di Luca in volata sono venuti i campi, però seconda gazzaggista va benissimo.